Il nostro progetto è un progetto di una lista civica aperta a tutti, aperta a tutti coloro che a diverso titolo hanno un ruolo, lavorando o anche svolgendo azioni di volontariato e costituiscono il tessuto sociale di Vallefoglia. Vogliamo partire dal basso, dare voce a chi oggi non ha voce, vogliamo coinvolgere i giovani senza dimenticare le anziani e le persone fragili, vogliamo costruire una politica concreta, pragmatica ed inclusiva. Vogliamo che a Vallefoglia ci sia di nuovo voglia di partecipare attivamente ed incidere sulla vita dell'amministrazione pubblica. Massima attenzione sul tema dell'ambiente e non solo? Sicuramente massima attenzione sul tema dell'ambiente, io sono anche Presidente dell'Associazione Diversamente, negli ultimi quattro anni abbiamo portato avanti tematiche ambientali con grande attenzione alla gestione dei rifiuti, alle politiche di gestione dei rifiuti. Abbiamo combattuto per evitare che venisse costruito il digestore anaerobico a Vallefoglia, abbiamo presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica che su richiesta di Marche Multiservizi verrà discusso al TAR delle Marche. Abbiamo combattuto e stiamo combattuto per evitare che Aurora e ancora una volta Marche Multiservizi costruiscano uno scempio nel nostro territorio come il progetto della discarica di riceci, 5 milioni di tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Anche qui abbiamo presentato un ricorso, ma la cosa che mi ha colpito e ci ha colpito ed è stata una motivazione forte per creare questo nuovo progetto è vedere quanta distanza esiste tra i cittadini e chi ci amministra, vedere come ci sia poca partecipazione, dialogo, confronto, addirittura poco rispetto. Noi in 4 anni non siamo stati in grado di confrontarci con l'amministrazione di Vallefoglia, ci hanno ignorato, penso forse sperando che noi mollassimo. Oggi siamo qui ancora più motivati e vogliamo presentare un nuovo progetto che dia spazio a noi, ai cittadini all'interno dell'amministrazione di Vallefoglia.